Stabilire per decreto, questo sì nella legge, che se ci fosse un euro, un euro di plus valenza, questo va al fondo di risoluzione. Per noi guida vendetta da tutti i punti di vista. Perché se c'è un euro che avanza alla vendita dell'assa, non va al fondo di risoluzione, ma va al ristoro delle persone danneggiate. Eccola una delle proposte lanciata da Pietro Ferrari, presidente provinciale di Feder Consumatori Arezzo, per fare in modo che i risparmiatori di Banca Etruria riescano a riavere indietro i loro soldi. In particolare qui Ferrari parla della cosiddetta Good Bank e della sua ormai imminente vendita. Se ci fossero delle plus valenze, secondo Ferrari potrebbero essere utilizzate per andare ad incrementare il fondo di solidarietà messo a disposizione dal governo per ristorare azionisti e obbligazionisti subordinati che sono appunto rimasti con un pugno di mosche in mano. Sono già 1250 i risparmiatori che si sono rivolti in questi due mesi a Feder Consumatori e dal 18 gennaio prossimo l'associazione inizierà l'assistenza personale a ciascuno di loro. Per il momento la magistratura non ha ritenuto di procedere per bancarotta fraudolenta nei confronti del vecchio management della banca, ma questa è ancora un'ipotesi che rimane in piedi. C'è maggiore del reatto di truffa sicuramente, di bancarotta fraudolenta? Mi risulta che sta indagando anche il giudice su questo, si deve pensare che non ci si rassegna perché c'è un sistema che ha consentito tutto questo. Consobe, Banca Italia si consente di rimettere sul mercato dei prodotti spazzatura che poi diventa lo scarto a straccia. Questi prendono soldi, se li finanziano, finanziano gli amici degli amici, non si preoccupano di fare recuperi crediti, creano le condizioni per arrivare a un intervento ispettivo, a una correzione dei bilanci e quant'altro. Si arriva al fallimento e si pensa che poi non siano ipotizzabili questi reati, anche quello di bancarotta fraudolenta. Questo aspetterà il magistrato, non certamente a me dirlo, perché io non ho le competenze per poterlo fare. Questa nuova banca Etruria, se non si fanno chiarezza su ciò che è successo sulla vecchia banca, su quella che è stata chiusa, su quella che ha creato questo dissesto in questo territorio, sarà una banca che non riceverà la fiducia dei risparmiatori, non la riceverà. Non ci piace che quando si manda ai risparmiatori a chiedere la documentazione gli vengano chiesti 18 euro per fornire questa roba. Non ci piace. L'altro bacino a cui, secondo CGL, si può attingere sono proprio le plusvalenze che potrebbero derivare dalla cosiddetta bad bank. Troppo bassa la svalutazione, 17,65% per i crediti cosiddetti deteriorati. Anche qui il governo potrebbe intervenire e stabilire che una parte delle plusvalenze potrebbero essere proprio dedicate al ristoro dei risparmiatori. Una proposta concreta, dunque, che era già stata inviata ai parlamentari a retini da parte della CGL. Una prima concreta risposta la potremo sentire nell'assemblea convocata per venerdì 15 gennaio insieme a tutti i risparmiatori alla Borsa Merci di Arezzo. I parlamentari dovranno dirci veramente che ne pensano perché nessuno ha detto che questa è un'idea bislacca o sciocca. Allora, se non è un'idea sciocca, mettiamola in atto. E se non la si mette in atto ci devono essere date delle spiegazioni. Oltre ai parlamentari della circoscrizione di Arezzo abbiamo invitato anche, credo abbiano accolto l'invito sia il sindaco di Arezzo perché ovviamente la banca a sede legale è qui in Arezzo, quindi per correttezza il sindaco è giusto ci sia. E poi il presidente della Camera di Commercio in quanto rappresenta l'economia, diciamo il tessuto economico di questo territorio.